L'Oceano di Mezzo è l'oceano che quasi sempre mi separa o dai miei cari, dalla mia famiglia, dai miei affetti, dai miei amici o dal paese di cui sono originario. E quindi racchiude questa grande attraversata del mondo dove racconto i paesi che sono stato, i continenti che ho esplorato, questa vita da nomade globale. Il tentativo è anche continuo di mettere radici da qualche parte, generalmente radici provvisorie, però nel mio mestiere di esploratore, di raccontatore dell'America sulle due coste, della Cina, dell'India o dell'Etiopia, Ho sempre sentito questo bisogno di capire i luoghi, mettendoci delle radici anche momentanee, ma immedesimarmi, riuscire a immergermi in una identità culturale. E questo è il viaggio che vi propongo di fare insieme a me. Grazie a tutti.